Oggi è stata un'esperienza fantastica, mi sono divertita molto, è anche emozionata, e dico grazie anche alle mie allenatrici, tutti nei suoi, per tutto l'appoggio che mi danno, e anche al pubblico italiano che è stato presente oggi al palazzetto. Sono molto felice di questo risultato e ringrazio tutto. Grazie a tutti.